Siamo a due giorni dall'approvazione in consiglio regionale del piano sociosanitario 2023-2025 della regione Marche, l'atto più importante a seguito della riforma avviata nel 2022. Per usare i termini medici è stato un vero travaglio, sette ore di discussione, un giorno seguente per l'approvazione, sempre per usare i termini medici c'è stata anche una gestazione lunga e complessa che Nicola Baiocchi, la presidente della Commissione Sanità, ha seguito con un centinaio di audizioni che hanno voluto convogliare in questo piano le esigenze di tutti i portatori di interesse. Sì, è stato un piano articolato, complesso, un percorso come tu hai ben ricordato lungo e importante che è iniziato prima con tutta una fase preparatoria a redazione dell'atto da parte anche con l'ausilio dell'Università Politecnica delle Marche, la Bicocca, che ha portato poi a una bozza a riatto che è stato discusso all'interno dei territori con il presidente della regione, i stakeholder istituzionali e poi è giunto all'interno della mia commissione dove abbiamo fatto, sì, sicuramente con tempi abbastanza serrati, abbastanza veloci, ma 130 tipo audizioni di soggetti che sono interessati a voler dare un contributo per migliorare questo atto che alcuni suggerimenti sono stati poi recepiti all'interno dell'atto stesso per poi confluire all'interno dell'aula dove abbiamo votato due giorni fa. Dal territorio qual è la voce che risuona forte e impellente che si chiede a questo piano? Chiaramente c'è bisogno di cambiare alcune cose che sappiamo tutti che ancora non sono all'altezza, in questo atto è tutto molto chiaro, è una visione non più ospedalocentrica ma anche di servizi sui territori, il DM77 va in questa direzione con le case di comunità, gli ospedali di comunità e i centri operativi territoriali per dare un servizio sempre più vicino al cittadino un'esigenza che chiede fortemente. Fra le tante situazioni che prevede qual è la sfida più complicata da affrontare? La sfida più complicata è quella di riuscire a dare dei servizi ai cittadini vicini nei territori affinché le persone non si arricchino sempre al pronto soccorso nelle grandi città ma riescono a dare servizi sui territori più vicini per evitare che con i codici bianchi e i codici verdi vengono gestiti dei pronti soccorsi. Liste d'attesa e mobilità passiva sono le due grandi lacune che vengono reclamate dall'opposizione sulla quale si lamenta una certa carenza ma soprattutto una risposta che non viene ritenuta così praticabile. No, è sicuramente il tema, le liste d'attesa è il tema più diremente su quello che gli uffici stanno sicuramente lavorando in maniera più importante, ancora non è soddisfacente la risposta dobbiamo sicuramente migliorare, il Covid purtroppo ci ha lasciato indietro tantissime prestazioni che dobbiamo necessariamente recuperare e fare fronte invece all'ordinario quindi assolutamente siamo consapevoli di questa situazione e ci stiamo mettendo sicuramente tutto l'impegno. Adesso questo nuovo piano social sanitario darà in modo anche ai nuovi direttori generali di mettere a terra questa riforma nel più breve tempo possibile.